Sei stata una paziente straordinaria, non ti dimenticheremo mai, la clinica Malzoni ha salutato così Giovanna Mazzella, la madre del piccolo Giovanni Giuseppe, entrambi travolte e uccisi dal fango di Ischia. Una tragedia che ha scioccato l'Italia, la storia che meritava tutt'altra fine, è nata da Vellino presso la clinica dei Viale Italia, lì dove Giovanna ha partorito appena 21 giorni fa il suo bambino. Sei stata una paziente straordinaria, una donna dolce e amorevole, abbiamo scherzato e riso assieme, poi è arrivata lei, la tragedia di Ischia che vi ha strappati alla vita. Possiate riposare in pace, non ti dimenticheremo mai, il reparto di ostetricia, clinica Malzoni di Avellino, è il messaggio comparso sui social da parte del personale sanitario, una dedica commovente in memoria delle vittime. Affidandosi alla clinica velinese, Giovanna e il marito, Maurizio Scotto, avevano deciso di mettere al mondo il loro primo genito, il piccolo Giovanni Giuseppe, nome dedicato al nonno, autista dell'Eav, che nella frana ha perso figlio, nuore e nipote. Un dolore senza fine, le sue lacrime sono diventate il simbolo della tragedia ischitana. Un dolore senza fine, le sue lacrime sono diventate il simbolo della tragedia, non ti dimenticheremo, 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 non ti dimenticheremo.